Non immagini quanto faccia male non essere creduti. Tu devi fidarti di me, Chloe. Come ci si può fidare di qualcuno che ti crede pazza? Sei una donna molto intelligente. Non sei tanto attenta e ti dimentichi l'ombrello. Stai bene? Da quanto tempo sono qui? Da tre giorni. Voglio parlare con mio marito. Doug è morto. Lo hai ucciso tu. È impossibile. Qual è il tuo ultimo ricordo? C'era una ragazza. Questa è la ragazza che ho visto. È questa qui. È impossibile, è morta quattro anni fa. Voleva comunicare con me ed è venuta per uno scopo ben preciso. Miranda, che cos'è? Non sono allucinazioni, è tutto vero. Capisco, sei sconvolta. E io ti aiuterò, ma devi fidarti di me. Non ci si può fidare di qualcuno che ti crede pazza. Hai paura? No. Peggio per te.